Professore, va bene o male che c'è, io sono malissimo. No, signorina, non... Lo so, lo so, non mi conosce, ma questa qui è un'emergenza, perché se lei non mi aiuta, io le giuro che apro quella finestra e mi butto di sotto. No, signorina, io non so... Lo so che non è disponibile, lo so, dottore, mi scusi. Io ho provato a telefonare, ma non ho fatto in tempo a prendere un appuntamento. È successo tutto così all'improvviso. Guardi questo stronzo. Questo SMS di mezz'ora fa. Ciao, Topolina. Vabbè, Topolina sarei io. Ciao, Topolina. Topolina, lo sai dove sono? Sono in un taxi che mi sta portando all'aeroporto. Parto. Ho bisogno, ho bisogno di aria nuova perché con te, perché con te mi sento soffocare. È meglio lasciarsi dopo un anno che dopo cinque. Addio il tuo ex orsacchiotto. Lei si rende conto che quel berri mi ha lasciato con un SMS senza neanche dirmelo in faccia? Capito. E mi ammazzo. No. No, io mi ammazzo, io mi ammazzo. E mi ammazzo! No, che ammazzo! Ma che ammazzo è il mio ammazzo? Parliamone. Stiamo. Va bene, va bene, mi calmo, mi calmo. Allora, mi stendo. Non lo so. Perché lei fa la terapia in piedi? No, che c'entra? Io le volevo soltanto spiegare. Qui? Signorina, io non sono... Sto, sto. Sto già meglio, dottore, qui. Mi sento già meglio. Funziona il lettino, eh? Eh, funziona sì. Ma lei non prende appunti? Prendo appunti, sì. Allora. Mi dica, dopo l'ina, mi dica. No, scusi. Valentina. Mi chiamo Valentina. Valentina, sì. Cioè, lei si rende conto, dottore, io mi chiamo Valentina, come il santo degli innamorati che è presa per il culo. Invece quello lì, quello lì si chiama... si chiama Guido. Lo sacchiotto. Ma quello sacchiotto, che è una merda! Ma quello sacchiotto! Se lo dice lei...